Proseguiamo con questa bacheca, farmacia, guardate quanti contenitori e quante fiale e tutti gli strumenti, farmacia e lassù c'è il cardinale Francesco Sapolli, siamo nella chiesa di San Rocco a Sabioneta, carciofo, fiori del cotone, biancospino, elicrisa licorizia, fiori di cardo, pruriolo selvatico, erba cipollina, nespole, giugiole, ulivo, zucca, peperoncino, malva, malva.